Vedi quella sagoma scurla giù? Quella è ustica. Il 19. 81 vittime. Una tragedia, non è vero. Questo è il rapporto sulle condizioni del 19 Italia. Un aereo civile che precipita in mezzo al mare e nello stesso giorno un caccialibico viene abbattuto sui monti della Sina. Questa è la prova che c'è stata una collisione in volo! Un caccialibico. Il MiG-23 è stato abbattuto proprio il giorno in cui il 19 è precipitato. Nessuno parla del MiG libico che io ho visto a Timpa delle Magare. Se ne deve andare, ha capito o no? Rischiamo di farci tutti molto male. Sai bene che la storia di questo paese è segnata dalle stragi. Dovrai giurare sul nostro amore di tenerti alla larga della tragedia di Ustica. Aspetta! Questo è il telefono di mio marito. Si mette in contatto con lui. Non si fermeranno mai, non possono. Oh mio Dio. F-14 FUNCAT. Questi sono gli aerei che seguivano il caccialibico. Non sono gli storici a scrivere la storia. Caccia USA ha speronato il 19 dell'Italia. Chi la scrive è soltanto la ragione di Stato. Ciò è tutto bene. Bene! Nessuno pagherà per questo massacro.